Inaugurato sabato mattina a Sassano il nuovo museo che oltre a mostrare le bellezze della natura attraverso le varie specie di orchidee selvatiche ammirabili nella valle, mostra anche nel dettaglio le diverse varietà di grano che anticamente venivano coltivate ed erano tipiche del territorio. Il museo è stato allestito presso lo chalet ubicato in località Valle Piana con il sostegno dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni e sabato mattina è stato inaugurato dall'assessore regionale alle politiche agricole Nicola Caputo insieme al presidente del Parco e consigliere regionale Tommaso Pellegrino. L'ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle aldiche coltivazioni rappresenta un punto di riferimento straordinario e lo rappresenterà sempre con maggiore forza per quanto riguarda tutto quel patrimonio naturalistico, paesaggistico e legato alla biodiversità. Tante volte se andiamo a parlare di biodiversità, qui con il lavoro straordinario del professore Di Novella, di Riccardo Di Novella, che coordineranno le azioni scientifiche dell'ecomuseo potremmo far capire che cosa significa la biodiversità e soprattutto diamo un ulteriore arricchiamo anche di più quel patrimonio legato alla Valle delle Orchidee che noi abbiamo cominciato con un grande percorso di conoscenza e con l'amministrazione, con il sindaco Rubino e l'amministrazione attuale continueranno chiaramente ad investire e valorizzare il nostro territorio e la nostra Valle delle Orchidee e sarà inoltre anche un centro di promozione turistica importante perché anche questo mancano molte volte nei nostri territori. Quindi un punto di eccellenza per l'intero Parco Nazionale del Cilento Valleone-Alburni dove partiranno tante azioni, una serie di azioni tese a quel percorso di conoscenza e quel percorso di valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico del Parco Nazionale del Cilento Valleone-Alburni. Ormai il parco è diventato un punto di riferimento e noi dobbiamo mettere in campo azioni sempre più sinergiche per valorizzare l'agricoltura all'interno di queste belle strutture. La regione Campania in regione stiamo cercando di fare il massimo per riportare l'agricoltura al centro dell'agenda politica e devo dire anche con la grande determinazione del Presidente De Luca penso che ci stiamo anche riuscendo voltando pagine e soprattutto pensando ad una nuova agricoltura basata sul concetto di sostenibilità ambientale, di innovazione e anche di una nuova funzionalità alla salute umana. Abbiamo la più grande biodiversità del paese, dobbiamo solo convincerci noi che abbiamo dei prodotti di altissima qualità, siamo i detentori di fatto in questa zona della dieta mediterranea e noi dobbiamo riuscire a declinare le caratteristiche di una dieta campana di cui i prodotti sono di queste zone della nostra regione. Se riusciamo a far percepire sui mercati la qualità delle nostre produzioni e soprattutto la funzionalità alla salute umana probabilmente cambiamo anche quel paradigma che vede sempre la campagna un po' seconda rispetto alle altre regioni.